Quattro regioni italiane, Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, hanno deciso di spendere bene il proprio tempo, parafrasando il titolo che avete dato a questa iniziativa. Spieghiamo che cosa significa però. Intanto abbiamo voluto lanciare questa notizia nel cuore delle ferie, proprio a dimostrazione del fatto che non ci fermiamo, non ci ferma la crisi e non ci fermano neanche le ferie. Quattro regioni, quattro aziende che si sono messe insieme, quattro aziende che rappresentano più di 2.000 imprese nel centro Italia, che in questo breve periodo, che è l'inizio della nostra attività, hanno movimentato 35 milioni di euro in acquisto e in vendita. L'obiettivo è quello di offrire alle imprese delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo uno strumento che possa permettere loro di aumentare le vendite. Nel momento di crisi finanziaria, che è poi diventata anche economica e sociale, Abrex, Markex, Umbrex e Tibex offrono l'opportunità alle imprese dei nostri territori di poter avere clienti aggiuntivi, di poter fare fatturato aggiuntivo, di poter risparmiare liquidità, perché gli incassi che derivano da queste vendite aggiuntive sono certi e immediati e possono essere rispese all'interno del circuito. Quindi il motto, non aspettiamo il claim legato al tempo, è fondamentale per questa iniziativa. Quattro regioni accomunate da un dramma che abbiamo vissuto tutti nel 2016, quello del terremoto. Sì, un dramma che poi in Abruzzo è doppio perché nel 2009 abbiamo già vissuto una triste esperienza del simile, quasi identica purtroppo, però anche qui non ci arrendiamo. Queste quattro regioni sono quattro delle dodici nelle quali attivo il circuito in Italia. siamo accomunate non solo dalla contiguità territoriale ma anche da queste difficoltà conseguenti alle calamità che ci hanno fatto anche piangere vittime, ma non ci arrendiamo, ci rimbocchiamo le maniche, non aspettiamo il pubblico e da soli ci organizziamo. Quindi l'invito che facciamo alle imprese è a contattarci, a utilizzarci, a valutare la possibilità di entrare nei circuiti delle nostre regioni e poter valorizzare la nostra capacità di fare rete, di fare network, di fare marketing e di aumentare le vendite.